questa è la sedicesima più grande città nel mondo e della mia città qui vediamo dietro di me una panorama più larga che possiamo avere della mia città in altezza a te Ran vivono 9 milioni di persone e poi anche questo durante il giorno può aumentare fino a 14 milioni sono quelle persone che vengono in città lavorano e poi di nuovo tornano intorno alla città e hanno le case lì per stare nella natura e poi anche per fare un picnic oppure anche una festa di compleanno nella natura non bisogna soltanto allontanarsi dalla città possiamo venire semplicemente qua e fare una festa oggi proprio è la festa di compleanno di una dei due dei miei amici e siamo qui per sorprenderli ancora non sono arrivati ma io vi aspettiamo ciao buongiorno questo è davvero No, 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 no. No, 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 no.